Vediamo il tuo esordio ufficiale in maglia Modena, insomma una bella prestazione personale tua a Perugia. Sì, però come ci hai detto prima, in questo momento non conta la prestazione di qualcuno, conta la prestazione della squadra e purtroppo non abbiamo raggiunto questo che volevamo fare, quindi soprattutto i primi due set contro Perugia, eravamo sempre lì, eravamo vicinissimo, quindi la prossima domenica vogliamo fare meglio e vogliamo chiudere questi set se abbiamo questa opportunità. Erano tanti anni che non giocavi a posto, però avevi già giocato, no? Quindi sei sembrato un giocatore navigato da posto due. Sì, conosco giocare come a posto, per me in questo momento non è un problema, Sì, più o meno è come schiacciatore, solo che attacchi alla due, quindi per me non è un problema. Hai ritrovato a Modena Andrea Gianni dopo anche le varie estati nazionali, compresa questa, no? Hai fatto bene anche quest'estate nella Michevole con la Polonia. Che allenatore è e cosa ti aspetti da questo anno con lui? Gianni è un allenatore che vive la pallavollo e vive questa voglia di entrare ogni giorno nel campo e dare il meglio, questo mi piace e lui è uno che sempre vuole spingere e vuole avere il meglio dei suoi giocatori ogni giorno. Quindi è una grande opportunità di avere lui come allenatore perché puoi imparare tanto. L'ultima domanda, che partita sarà quella di domenica, come l'affronterete? Sì, è più o meno una partita come abbiamo già visto. Noi proviamo a fare un po' meglio e negli momenti dove siamo vicini proviamo di essere più lucido e proviamo a prendere questi set che ci mancano.